Via libera del Consiglio di Pescara al Peba, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il primo. Un atto che ha una valenza sociale, un atto che era necessario, atteso da molti anni da parte della nostra amministrazione e diventa anche un atto di riferimento per tutta la Regione Abruzzo e per tutti gli altri comuni, sia quelli capoluogo e anche per gli altri che dovranno dotarsi di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Un via libera all'unanimità favorito dalla scelta delle minoranze di abbandonare l'aula dopo aver espresso perplessità, ma convenuto sull'importanza del piano. In realtà questo piano di eliminazione delle barriere architettoniche è un documento molto valido, è un documento che fotografa la situazione della città di Pescara senza entrare nel dettaglio, perché è uno strumento anche flessibile, questo piano di eliminazione delle barriere architettoniche diventa anche un elemento ponte con le amministrazioni di Spoltore e Montesilvano in vista della fusione del 2027 e volutamente abbiamo indirizzato il lavoro in questa direzione proprio perché ormai Pescara vive questa singolarità, questa particolarità di guardare insieme a Spoltore e Montesilvano ad un processo e ad una fusione che è unica in Italia. Soddisfatti l'assessore Albore Mascia e la presidente della Commissione Politiche e Sociali Maria Luigia Vontopolino anche per l'apporto costruttivo delle minoranze. L'impegno che è stato assunto anche grazie ad una mozione approvata all'unanimità e proposta dal gruppo consigliare del Partito Democratico e quello però approvata dalla maggioranza e condivisa dalla maggioranza è quello di inserire da qui ai prossimi anni somme in bilancio sia nel bilancio corrente ma anche soprattutto nel piano triennale delle opere pubbliche di somme che siano destinate progressivamente all'eliminazione delle barriere architettoniche nella nostra città e poi dal 2027 anche insieme ai territori di Spoltore e Montesilvano.